Non è uno spettacolo da vedere ma un momento di festa da partecipare, da vivere insieme. Per come organizzano penso che sia l'unico nella campagna come carnevale, ne siamo fiori di Saviano. Una festa bellissima che comunque da anno dopo anno si sviluppa sempre di più. Sì, è una bella festa, ci sono bei carri. È bello perché c'è spontaneità, entusiasmo e la gente si diverte e si dimentica un pochettino i quali problemi della settimana. È bello perché è pieno di colori, dà un po' di allegria e poi perché c'è lui. Il carnevale a Saviano dovete venire a vedere perché fondamentalmente qui si ci diverte. Il carnevale a Saviano è bello, venitelo a vedere, vi divertite. Vi lasciamo un bacio e un abbraccio. Buon carnevale a tutti! Buon carnevale a tutti! Buon carnevale a tutti! Buon carnevale a tutti!